Continua a dire, all'ossessione, perché a parole sono tutti campioni del mondo di salto della chiacchiera, è vero o no? Poi, nella realtà, quanti sono quelli che sul lavoro si mettono lì e fanno, accuso? Non c'è solamente l'idea, c'è l'esecuzione di quell'idea, direttamente o indirettamente, poi la devi fare. È pazzesco, è pazzesco, c'è questo bipolarismo sul lavoro, tra quelli che parlano, una marea di gente, quelli che fanno pochi, 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 purtroppo alla fine farlo è un altro sport. Però tutto diventi padrone della materia. Grazie a tutti.